Ma mi spiegate come si fa? Come si fa a farsi rimontare in questa maniera? Ma solo noi riusciamo a fare queste cose, ragazzi. Oggi si è visto, chiaramente, forse tutta Italia, o quasi, ha visto cosa può fare un allenatore. Che dico tanto, e l'allenatore non conta, conta e come conta. Allora da una parte c'è l'allenatore, Cado Ranieri, fantastico, straordinario allenatore. Ma non solo per il Leicester, a Parma ce l'abbiamo avuto per sei mesi e da ultimi ci ha salvato in maniera incredibile. Dall'altro c'hai un, lo posso dire, una faccia da culo. Il signor Pecchia, veramente, nell'attore, cioè, come direbbe la famosa scena di Aldo Mongevani e Giacomo, preso dalla strada, perché è un attore così incapace, lo trovi da poche parti. Però, secondo tempo, dominato, senza sé, senza male, dal Parma, come spesso accade nelle ultime partite, dove nel primo tempo partiamo a razzo. Gol bellissimo del Parma, il suo 1-0, l'azione corale chiusa da Benedijek, cioè assist di Somme, tenete in mente il nome di Somme, e poi il 2-0 di Somme. Quindi direte, migliore in campo, migliore in campo. Nel secondo tempo, adesso non so cosa è successo, togli a Stevez, l'equilibratore del centro campo. Per Juric, che questa non ha fatto nulla. Vabbè, togli Buffon, che ti voglio tanto bene, però mi sa che il tuo tempo è arrivato. Per mettere un portiere, se si può definire portiere, il nome Ciccizzola. Vabbè, lì magari è un cambio obbligato, ok. Cosa fa il signor Ranieri? Mette un certo Lovumbo, che non so chi sia. Non credo abbia fatto chissà che cosa a questo campionato, però. Mette Lovumbo, perché probabilmente ha visto che il Cagliari era in difficoltà in quella zona di campo, probabilmente soffriva, gli mancava qualcosa, e ha messo in campo dubbio, che per caratteristiche probabilmente sopperiva a quella cosa. Vabbè, ci stacca il Cagliari, parte dall'arimbaggio per cercare di accorciare le distanze. E tu cosa fai? Vedo che Somme gioca benissimo. È il migliore in campo. Perché non toglierlo al cinquantasettesimo minuto? Come già abbiamo fatto col Venezia, all'andata. Dove da 2-0 è finito 2-2. 2-0 per noi, 2-2 per il Venezia. L'hai fatto un mese fa contro il Benevento, che è il migliore. 2-0 per noi, a razzo come oggi. Lo toglie al cinquantasettesimo e guarda caso finisce 2-2. Ma perché non farlo anche in una semifinale play-off? Sul 2-0 per te, con il ritorno in casa. Già è successo due volte che ti fanno rimontare per colpa del Cagliari di Somme. Perché non farlo ancora? Per mettere in campo un fantasma pagato ben 12 milioni di euro, il signor Denisman. E quando ha voglia fa dei gol meravigliosi. Peccato che ne fa uno su 20 partite. Tra l'altro contro il Cagliari aveva fatto un gol meraviglioso in campionato. C'è da dire un arbitraggio a senso unico per il Cagliari. Un arbitraggio così scandalosamente a senso unico era un po' come non lo vedevo. Noi al minimo cosa l'abbiamo uniti, loro mai... Comunque, quanto pare piagnucolare per cose che non esistono nel secondo che i rigori per il Parma in campionato c'erano e come. Forse quello di Mijai la poteva essere dubbio, ma l'ha sbagliato. Quindi il Cagliari aveva 7 minuti di tempo per fareggiare quella partita. Comunque, il rigore di Vázquez era sacrosanto e netto. Però loro hanno piagnucolato. Hanno trovato un arbitro a favore. A favore loro. Ma il Parma non ha perso per colpa dell'arbitro, perché il rigore, secondo me, comunque il Cagliari oggi c'era. Magari è stato furbo lo Vumbo, per carità. Però è stato un pochino meno furbo il signor Mijaila, tra l'altro. Si vede che si è simpatico col Cagliari dopo aver sbagliato il rigore con un cucchiaio al novantesimo sul 2-1 in campionato. Ha regalato un gol fondamentale al Cagliari. Dove ovviamente Ciccizzola, invece di buttarsi, sta fermo e non voleva dare la palla. Mi ricordo un certo Luigi Sepe. Vabbè, questo è un altro discorso. Togli Somm. Probabilmente il Parma avrebbe attaccato poco, è lo stesso, però Togli Somm. E il Parma smette di giocare. Mann è inesistente. Zanni Macchia che non ha fatto nulla, lo tiene in campo. Mann e Zanni Macchia hanno lo stesso ruolo, quindi una mente normale, norma dotata, direbbe colgo lui per Mann. Se poi Mann fa schifo, con un altro discorso. No, Togli Somm, centrocampista e metti Mann, centrocampista. Vabbè, insomma, è tutto l'anno che fa così, è il signor Pecchia. Metti giocatori a casissimo in ruoli senza senso. Poi Togli Benelijak. Un altro del migliore, anche se poi era sparito nel secondo tempo. Forse staccava pure la coscia, speriamo bene perché è fondamentale per noi Benelijak. Berdabè, inguardabile anche nel primo tempo dominato. Non lo toglie. Lo toglie Stevez, che per noi è fondamentale per il centrocampo. Vabbè, ma già lì appunto non capivo. Poi toglie Zanni, poi toglie... Benelijak è per Mijaila che insieme al suo amichetto rumeno, il signor Mann, se ne possono anche andare, perché io a Parma non le vorrei più vedere, sinceramente. Però, vabbè. Mijaila regala il rigore al Cagliari, grazie mille. Poi toglie sul 3-2, toglie Zanni e Macchia, insomma, è impalpabile per tutta la partita, per mettere Bonni, che lasciamo perdere anche lui. Sono dei cambi senza senso. Senza senso. Oggi, a parte che è un riassunto della stagione del Parma, vorrei ma non posso. Grande potenzialità mal sfruttate, sia perché alla fine la panchina nostra è inguardabile, sia perché l'allenatore è un qualcosa che probabilmente neanche è nelle patatie. Forse ho trovato nelle patatie, nella sul suo patentino, perché è un escocciatore, quindi è per scontato che deve fare l'allenatore. No, il suo ruolo forse è in cucina, non lo so, fare un mestiere manuale, ma non certamente fare l'allenatore. Alla fine si è visto appunto cosa può fare un allenatore. Il Cagliari ha un allenatore, il Parma non ha l'allenatore. Il Cagliari comunque ha dei giocatori di esperienza in Serie A e il Parma non ce li ha. Il Parma ha avuto un momento buono di due mesi dove ha fatto sei vittorie, due pareggi. Ma perché? Non lo so perché probabilmente è cambiato un po' la mentalità tra l'altro che ha vinto alcuni giocatori, ma ha coperto l'intero campionato prima di queste otto partite dove hai vinto contro Frosinone e Genoa che sono andati in Serie A e poi perdevi con il Cosenza ultimo in classifica in quel momento. E poi perdevi con 1-0 con l'altra squadra dove faceva un tiro in porto, si chiudeva in difesa, tutta la passava a centrocampo e finiva lì. E tutta la stagione che facciamo così oggi è proprio il culmine di tutto quello che è successo durante l'anno. Faccio fatico a dire sinceramente complimenti al Cagliare perché l'arbitro l'ha aiutati, ma proprio amorosamente. E l'ha aiutati anche sui loro pecchiere. Fate complimenti a lui, lui che l'ha fatto vincere. Che dire, alla fin fine puoi ancora farcela perché al ritorno ce l'hai in casa. Basta un gol per portarla a supplementare, puoi sperare. Comunque basta un 2-0, ma insomma col Parma un 2-0 non basta minimamente. Quindi io sinceramente sono veramente deluso, amareggiato, deluso, rassegnato. Ecco, perché il Parma è da due anni che fa così. Quest'anno poi il culmine con una squadra così non ti meriti di andare in Serie A. Anche se dovessimo andare per miracoli in Serie A, la vedo dura. Poi dopo dovresti rifare mezza squadra, se non tutta. Solo due o tre puoi tenere. Varei venire pure Berdabè che sinceramente quest'anno non mi è piaciuto per niente. Non è proprio così indispensabile per il Parma. L'unico che terrei in Serie A sarebbe Benedice, del Prato e poco altro. Ah, un ringraziamento anche al signor Kobo, che l'anno scorso è stato inguardabile come difensore. Una cosa oscena, uno dei difensori più scarsi che abbia visto in vita mia. Solo perché quest'anno ha fatto qualche partita buona, qualche partita discreta. «Eh, ma Kobo è un grande difensore, dai, è buono!» No, io come sempre ci vedo lungo, ci vedo prima degli altri. Kobo non è un difensore di calcio, non deve giocare in Serie B. Se ritorni in Belgio, lì deve giocare. Perché se non faceva quell'errore lì, il Cagliari, sul 1-0, magari il Cagliari non prendeva tutta quella spinta. Perché comunque vai, tutta quella carica, perché comunque vai sul 2-0, dopo un po' magari perde le speranze o quantomeno cerchi di fare solo uno per giocare al ritorno. Invece se tu becchi gol al 65esimo, per un errore tuo, è normale che il Cagliari poi ci crede e ha fatto bene. Che dire, è il riassunto della stagione. Io mi do per perso, cioè il ritorno, perché vada magari vinci, ma non ti basterà. Forse non la vinci neanche nemmeno, farei un pareggio, il Cagliari salirà. Quanto meno spero che salgano loro, perché così ce la le diamo delle balle per l'anno prossimo. Già avremo la Sampdoria, rischiamo di avere il Verona, poi il Bari se dovesse rimanere, il Palermo. Quest'anno secondo me probabilmente lotterà seriamente per la promozione o quasi. Come ci sarà sempre la solita sorpresa neopromossa, che salta suori a caso e andrà a playoff. Quella che ha fatto schifo magari quest'anno e l'anno prossimo lotterà per andare in serie. Magari ci ha pure, come ha fatto un po' il frosinone. Insomma, cosa è così. Ci sarà pure il derby con la Reggiana, molto probabilmente, perché secondo me ogni serie non ci andiamo. Almeno l'unica consolazione è quella, che almeno vivrò l'adrenalina del derby, che non accade da sei anni, o sette sarà poi, nella prossima stagione. Che dire, io spero, purtroppo probabilmente mi toccherà vedere Pecchi anche l'anno prossimo in caso di rimanenza in B. Io non ce la faccio più a vederlo. È un po' come D'Aversa, veramente un allenatore scarso, inguardabile, che purtroppo ci toccherà tenere. Solo che, quantomeno, D'Aversa leva a culo. Pecchia è una faccia da culo. Grazie, un saluto. Ciao. Se l'inquadratura è venuta male, scusate, ma non sono con la mentalità giusta per cercare di inquadrarmi bene con qualità. Ciao. Grazie.